Si tornerà a volare al Teatro Romano di Gubbio dal 23 al 24 marzo per la 34esima edizione di Ventomania, il raduno di Aquiloni che fa sognare e divertire grandi e bambini, organizzato dall'Associazione Aquilonisti Eolo Gubbio, con il patrocinio del Comune di Gubbio e il supporto del Consiglio Comunale dei Ragazzi. In attesa del grande evento che gli organizzatori auspicano si possa svolgere in una giornata ottimale di sole e vento come quella odierna, questa mattina presso la Sala Consigliare di Gubbio è stato siglato il protocollo d'intesa tra l'Associazione, rappresentata dal Presidente Fabrizio Pierotti, e il Comune nelle vessi del Sindaco Stirati, che insieme all'Assessore Gabriele Damiani ha così formalmente riconosciuto e sottolineato l'impegno discreto e costante dell'Associazione, che negli anni cresce e consolida la propria rete di volontari, coinvolgendo collaboratori e attività anche le scuole del comprensorio e l'Officina di Leonardo, associazione che assiste persone autistiche di età comprese tra 18 e 30 anni, creando con essi una sinergia proficua e collaborativa. Con la firma del protocollo d'intesa, dunque, si sigilla un rapporto che c'è sempre stato e si sottoscrive un impegno reciproco che porterà l'Associazione ad organizzare la manifestazione e il Comune a sostenerla, sia con le risorse umane che con quelle economiche, convinto di un operato che diffonde per il mondo una cartolina di gubbio fatta di colori, amicizia e solidarietà, grazie agli Aquiloni, immagine per eccellenza di leggerezza e purezza. L'Associazione Aquilonisti per noi è un punto di riferimento, come lo sono, direi, tutte le associazioni del nostro territorio, che si occupano di sport, di cultura, di sociale, di sanità, di attività ludiche. Perché diciamo che per noi questo rapporto è sempre speciale, perché riteniamo che valorizzare la città, la comunità, la nostra coesione sociale e anche tutte le caratteristiche positive che possiamo proporre all'Italia e al mondo per noi si fonda profondamente proprio su questo rapporto con tutte le espressioni associazionistiche. Gli Aquilonisti hanno fatto sempre manifestazioni di grande pregio in quel contesto straordinario che è rappresentato dal Parco del Teatro Romano. Quindi, tra l'altro, il loro ha anche un messaggio di grande amicizia, di grande incontro, di relazione internazionale, ma al tempo stesso anche un messaggio positivo per l'ambiente, per la valorizzazione del verde, degli spazi aperti, per lo stare insieme in luoghi incontaminati, sostenibili. Quindi, ecco, anche da questo punto di vista è un'iniziativa sempre così colorita, così simpatica e così apprezzabile che impreziosisce anche lo spettacolo naturale e monumentale della nostra città. Quindi, anche da questo punto di vista, credo che il loro lavoro sia veramente uno dei grandi punti di forza della promozione del nostro territorio. Non una formalità, dunque, ma un atto di forte significato, ha riparito Sirati, che permette all'associazione di essere riconosciuta nel tempo dalle istituzioni, un modo, inoltre, anche per ringraziare l'operato di un gruppo che, oltre a costruire creazioni artistiche di altro pregio, porta il nome di Gubbio nel mondo, facendo registrare ogni anno in città circa 3.500 presenze. Tanti, infatti, i contatti nel tempo creati e riconoscimenti internazionali ottenuti, così come tante le delegazioni che anche nel 2019 verranno accolte dalla città di Pietra, vantando per la prima volta la presenza della Russia e dell'Australia. Tra queste, spicca anche l'Austria, che ha già invitato gli ogubini ad esporre la propria produzione aquilonistica nel mese di settembre all'interno del Skloss Off vicino Vienna. Le delegazioni saranno, diciamo, ospiti nostri in quei due giorni, anzi in quei tre giorni, perché in realtà alcune cominceranno ad arrivare già il venerdì e avremo Belgio, Francia, Germania, Austria, Singapore, Malesia, Indonesia, Russia e Australia quest'anno. Quindi in più, naturalmente, tutti gli avilonisti italiani, quindi una foltissima congerie di delegazioni. Un lavoro frutto dell'operato di tantissime persone, attive su molti fronti durante l'intero anno. Noi siamo circa 50 soci, che naturalmente durante la manifestazione siamo tutti, durante l'anno siamo un po' di meno, però la collaborazione è intensa da parte di tutti. e quest'anno avremo, si svolgerà, come dicevo prima, il 23-24 di marzo e avremo, siccome Ventomania è un contenitore, quindi non ci limiteremo a quei due giorni, ma poi probabilmente riproporremo nel mese di luglio o di agosto Ventomania by night. In più abbiamo già iniziato i laboratori con le scuole del comprensorio, con i bambini delle scuole del comprensorio e la collaborazione che ormai dura da anni, ma si è intensificata negli ultimi due anni, con l'officina di Leonardo, quindi con i ragazzi della Torraccia. E anche con loro abbiamo fatto, faremo di nuovo e continueremo anche i prossimi anni a sviluppare progetti. Il presidente Pierotti, oltre a ricordare la passione di tutti i volontari, ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente la Giunta che ha riconosciuto meritevole di tutela questo operato, la provincia di Perugia, la comunità montana, alta Umbria e la regione nell'intero complesso.